Ciao a tutti da Capitano Antenna. Oggi vi faremo vedere come intestare un connettore BNC su un cavo coassiale senza utilizzare pinze per la crimpatura. Insomma salteremo quel passaggio che per noi amatori viene considerato il più ostico. Quanti di voi si sono cimentati nella installazione di una telecamera, hanno scelto di utilizzare il cavo coassiale ma si sono scontrati con questo affare qua. Per raggiungere il nostro scopo utilizzeremo un semplicissimo connettore F adatto al diametro del cavo che andremo ad utilizzare ed un adattatore FBNC. Per prima cosa andiamo ad intestare il nostro connettore F sul cavo coassiale. Vi rimando ad uno dei nostri primi video in cui abbiamo fatto vedere come realizzare correttamente uno spinotto TV. Non ci rimane che togliere la guaina esterna, ribaltare la treccia sulla guaina, magari la accorciamo un pochettino, ecco qua, eliminiamo la lamina e togliamo il dielettrico. Ecco fatto, accorciamo un po' il polo caldo. A questo punto non ci rimane che prendere il nostro adattatore è avvitarlo al connettore F. Ecco intestato il nostro cavo coassiale con un connettore BNC rapido. Bene, possiamo collegare la nostra telecamera. Esistono diversi connettori adattatori che sono in grado di velocizzare il tempo di installazione. Sempre rimanendo in tema di videosorveglianza, vi segnalo questi due dedicati alla parte dell'alimentazione. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori che sono in grado di a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori che sono in grado di